Cori presenta Caterine Spack Vediamo la tua casa e ti dirò chi sei Vi piace questo gioco? Lo facciamo con i VIP Le persone molto importanti A prima vista si direbbe un vecchio casale abitato da gente di campagna Ma basta dare un'occhiata per accorgersi che questa è la casa di un VIP Un posto così è l'ideale per chi ama il dolce far niente O per chi ha un grande bisogno di riposare E se invece fosse un posto per lavorare? Un patio come questo fa pensare a uno studioso, uno scrittore Qualcuno che ha bisogno di pace Andiamo a vedere Ma l'immagine del filosofo o dello studioso svanisce davanti ad un salone così sofisticato Così adatto per un cocktail party Questa volta credo di non sbagliarmi Sento la mano di una donna elegante e raffinata Saliamo? Forse scopriremo qualcosa di interessante per il nostro gioco Forse sono un po' indiscreta Ma ci serve una conferma Ecco la conferma Non ci sono dubbi Si tratta di un'attrice L'avete riconosciuta? È Silva Coscina Vi è piaciuto il gioco dei VIP? Ora facciamo insieme il gioco dell'eleganza Sfogliate la vostra rivista preferita e troverete Catherine Spack Una delle attrici più eleganti di oggi Che vi presenta la collezione Cori Autunno-Inverno Cori Questa l'eleganza Cori collezione completa Abiti Abiti Sopraabiti Tailleur Cori nei migliori negozi della vostra città Cori L'eleganza sulle ali di una farfalla Questa città